Una quarta geometri dell'Istituto Fantoni di Clusone questa mattina in via Bonomelli a Clusone. Che cosa state facendo? Siamo qui per un lavoro per il comune di Clusone. Stiamo rilevando con gli strumenti che vedete alle mie spalle, strumenti topografici. Facciamo rilievo per stazione della via per fare in modo di consegnare un elaborato al comune con il quale possa progettare un lavoro su questa strada. Che tipo di lavoro? Penso che vogliono riasfaltare la strada, però non sono sicuro. E quindi cosa state facendo in particolare? In cosa consistono i rilievi? Noi con i nostri strumenti dobbiamo prendere dei punti che con questi punti poi possiamo riportarli su AutoCAD e su Revit per avere un elaborato con un disegno e dei dati della strada che stiamo rilevando. E con il disegno e tutto poi si potrà fare un lavoro, un progetto per un lavoro. Quindi un rilievo molto puntuale, ricordiamo, ad esempio anche i tombini vanno segnalati. Sì, stiamo segnalando tutto, tombini, accessi, cancelli, marzapiedi, tutto quello che troviamo sulla strada praticamente. Come trovi questo tipo di lavoro fatto all'esterno della scuola? È interessante, secondo me è utile perché ogni tanto ci vogliono anche dei lavori pratici, non solo teorici. Sono ormai diversi questi progetti di collaborazione che avete con realtà del territorio, comuni e non solo? Sì, quest'anno siamo partiti in autunno con la classe quinta, abbiamo fatto un rilievo di un'area verde su cui poi i ragazzi stanno adesso iniziando a progettare un parco pubblico, a Clusone, con questa classe appunto, questa via. Mentre con l'altra classe quarta saremo adesso in primavera ad Ardesio per un progetto con Vivi Ardesio. Si tratta di rilevare alcuni sentieri per produrre poi dei percorsi e con la classe terza, sempre corso geometri, faremo il rilievo di una chiesetta, dell'interno di una chiesetta a San Lorenzo, dove poi verrà allestita una mostra sempre dal nostro istituto. Sono esperienze che portano gli studenti a contatto con realtà reali, quindi prodotti che poi vengono consegnati a enti terzi e validati da enti terzi, quindi un lavoro vero e proprio.